Melfi ho preferito venire qui e ho messo tutto in discussione dopo una carriera che ho fatto fino ad oggi ho voglia di ricominciare diciamo no da zero però ho voglia di rimettermi in discussione in una piazza così come il Melfi poi il presidente mi è sembrato una persona eccezionale insieme all'avvocato Maione penso che mi hanno convinto ad accettare questa destinazione Hai parlato della tua carriera prestigiosa perché insomma Serie A, Liga adesso dove trovi le motivazioni per insomma scendere così tanto di categorie? Sicuramente ho delle motivazioni importanti di dentro ho voglia di dimostrare a tutti che Lanzaro dopo l'infortunio che ci ha avuto non è poi così tanto finito come dicevano quindi ho voglia di rivalza diciamo personalmente ho voglia di dimostrare che non stavo male spero di non sbagliarmi Lo si può fare in una squadra che lotterà per non retrocedere? Ma io penso di sì perché i presupposti ci sono la squadra secondo me è una buona squadra è vero che è ultima in classifica però l'ho vista giocare anche Domenica Pagani e non meritavo assolutamente il risultato che poi è bugiardo quindi secondo me il campionato di Serie C è lungo è stressante e sicuramente i valori verranno alla lunga fuori Ultima domanda Primo impatto con lo spogliatoio? Come è stato? Sicuramente un ottimo impatto c'era qualche persona che già conoscevo qualche giocatore che già conoscevo chi d'avversario come tra l'altro Devena che c'è un brutto ricordo di lui perché è lui che diciamo mi ha fatto stare fermo quattro mesi però sono cose che capitano nel calcio però dai un buon impatto e speriamo di dare un contributo importante per questa causa perché non sono il salvatore della patria però sicuramente cercherò di mettere a disposizione della squadra tutta la mia esperienza Qui si aspettano tanto da te Eh appunto quindi sicuramente non mi tira indietro perché come già ti ho detto prima è una sfida che mi affascina però sicuramente farò di tutto per cercare di centrare l'obiettivo minimo che è la salvezza anche perché ho un impegno importante può essere preso anche con il presidente Grazie 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 Grazie